Per me è una location un po' speciale, letteraria ma fisica, reale, che è quella del Monte Soratte, perché vengo da un'esperienza bellissima appunto, la lettura del poema del mio amico Claudio Damiani, che è diventato anche un corto magico, straordinario, con Roberto Relisca e Giorgio Marchesi, su cui mi sono occupata per la festa del cinema. Beh, è un luogo denso, intriso, di letteratura, di storia, di magia, di emozioni, quindi è la prima cosa che mi è venuta in mente, perché in questo momento ce l'ho estremamente addossa. Un saluto a tutti gli amici di Roma Lazio Film Commission.